Io vado spesso da Fruttarolo sotto casa che è egiziano, è una persona molto simpatica, molto socievole, tranne quando sciaguratamente una ragazza entra nel suo negozio e compra delle banane. In quella situazione, quando la ragazza appoggia le banane sulla pesa, sulla cosa, lui non riesce a resistere dall'impulso di dire al suo secondo, la sua spalla comica, come visto ci piace banana la ragazza. E fin qui è una molestia, una cosa antipatica che fanno fra loro tre, se non che a volte mi capita di essere dentro al Fruttarolo in quella situazione e lui cerca altri uomini qua e dire mi trova e io non è una cosa, non è una cosa carina da fare, mi spiace, e lui guarda un amico e fa, ah, pure lui ci piace banana, eh?